Musica Musica Don't get me wrong If I'm looking can be dazzled Musica Il primo ottobre è uscito giovedì primo ottobre Il primo ottobre è arrivato l'inverno E infatti mi stanno chiamando in giro Per portare il film nelle zone aride Ma funziona questo film veramente Mi hanno mai sono chiamato dall'Africa E sono portato il film in modo che è un oasi, questo film è un oasi infatti il prossimo visto che funziona, cioè non piove mai e piove allora in Italia luce stanalire può essere freddo nel corso e solito vi lascio alla visione di questa piccola tavola Ernesto, ti devo accanto a una cosa intelligente? grazie e quindi, niente, cosa dire? la mela la mela quella mela l'idea della mela ma che, ce l'ha visto qui? no, è tutto un fatto noi già l'abbiamo visto la mela, vabbè, voi la vedrete vedete questa mela che passa di mano in mano per tutti i personaggi è una domanda che mi fanno spessi ci sono una cosa, la mela, dove è? allora, la mela rappresenta il filo invisibile che ci unisce tutti quanti tutto il mondo e vi spiego perché a cui stai l'anno ma spieghi tu a cui stai l'anno ma io sono il meglio no, tu devi spiegare la mela e buttate no, vi dico perché io non so qua che so parlare ma sai cinque mila non so parlare sto dicendo la mela, questa mela cioè il filo invisibile che lega tutti quanti perché? perché io mostro qua solo al palco e voi state qua che mi state guardando quindi la vostra vita in questo momento è cambiata perché voi anziché giustamente stanno i mariti che mi stanno bestemmiando dietro e anche i ragazzi che tutti i ragazzi mi dicono mamma mia come è il peccato 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 tutto così io per chico questa cosa ma a me mi fa la mia città cosa dire? ma mi sono scordati si allora nel senso che se io faccio un'azione che credo bella lo so tu mi guardi su una pista che sta dicendo non lo so mi sto confondendo io solo perché la mecca domandè ma io me la porto a voi a me era bella è bella no è semplicemente il filo invisibile che ci unisce tutti quanti cioè nel senso che non pensate che non pensate che qualsiasi cosa fate nella vostra vita non sia legata ad un'altra persona quindi se tu fai il banchiere fanno bene fanno nel migliore dei romani tu che fai? il non lo so il lo sapo qui non lo fai salumiere salumiere non lo fai nel migliore dei modi tu fai il shippo fai il pè tu non si la tagliare perché? perché se ognuno di noi facesse al meglio delle proprie possibilità quello che sa fare e allora sarebbe un poco meglio detto questo non dico altro cioè chiunque creda chiunque creda che tutti i frutti maturino contemporaneamente come le fragole non sa nulla del l'uva ma non lo so 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 un po' Grazie a tutti.